SEDUTO AL PIANO FORTE Seduto al pianoforte, ho percorso un viaggio con la fantasia. Davanti a me scurrivano volti di donne, sguardi intensi, profondi, espressivi, melancolici, gioiosi, felici, occhi che raccontavano storie, sogni e segreti, come pagine di un libro che narra storie uniche in cui traspare la complessità, l'autenticità e la bellezza della femminilità, un equilibrio tra grazia, gentilezza e forza. Ed è così che è nato il brano Volti di Donna. Grazie. 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 Grazie.